Vediamo come scrivere un email efficace. Ormai la maggior parte delle comunicazioni formali passa attraverso la posta elettronica, per questo è importantissimo saper scrivere email rispettando vari canoni di formalità, anche se la comunicazione scritta via email è sicuramente più rapida e immediata bisogna comunque cercare di rispettare appunto queste regole per scrivere un email che richiede quindi molto tempo, bisogna progettarla, scriverla, rileggerla e correggerla soltanto scrivendo un email efficace possiamo anche aumentare il valore della nostra comunicazione, quindi va sicuramente fatta con le giuste regole. Varie cose da rispettare, il destinatario del messaggio, il nome quindi che immettiamo nella nostra rubrica sarà quanto troviamo, quanto troverà scritto il destinatario sulla sua copia, quindi è bene scegliere un nome sicuramente rispettoso. Ci sono poi altri due acronimi che sono CC e CCN, in questo caso si indica chi vogliamo inserire con CC in copia, questo indirizzo sarà visibile dal destinatario, CCN invece qualcuno a cui vogliamo far vedere la mail ma che non vogliamo invece far vedere al nostro destinatario. C'è poi il mittente del messaggio, quindi in questo caso i programmi di post elettronica ci fanno scegliere anche un nome con il quale vogliamo mostrarci al destinatario. L'oggetto dovrebbe essere breve, massimo 6-12 parole, contenere il succo del messaggio, soprattutto se il messaggio riguarda un'offerta, bisogna invogliare il destinatario ad aprirlo. Per iniziare una mail ci si rivolge al destinatario con un saluto di circostanza, composto da un aggettivo di circostanza, quindi ci sarà egregio, esimio, gentile, caro, starà lì poi a noi decidere il grado di formalità, seguito da un gruppo di appellativo, dottore, avvocato, professore. Si comincia poi con la prima frase del testo, questa prima frase in poche parole deve esprimere quello che vogliamo dire, quindi quello che si è detto nell'oggetto, fatti, date, luoghi, eventuali, numeri anche di documenti, fatture, contratti e vari e poi ci sarà il corpo del testo, quindi tutto quello che vogliamo dire. Qui si trattano i dettagli di tutti gli aspetti dell'argomento, si spiega perché si deve assumere una certa posizione, bisogna essere sicuramente ben chiari di quello che si vuole dire. E poi si arriva alle conclusioni, bisogna ringraziare chi ci ha letto per la sua attenzione e per magari qualcos'altro di utile che ha fatto per noi. Le formule per salutare sono le due classiche distinti saluti o cordiali saluti. Non bisogna poi dimenticare nella parte finalissima della mail la firma con tutti i nostri dati essenziali.